Gervaso, siamo diventati una Repubblica parapresidenziale, non più parlamentare, ma non ancora presidenziale. Viene in mente il Sarchiappone di Walter Chiari? No, questa non è una Repubblica, questa è una democrazia degenerata in regime e dal regime all'autoritarismo il passo è molto breve, quindi non siamo più una democrazia, siamo la caricatura di una democrazia, una democrazia da van spettacolo. Lo Stato c'è ancora? No, lo Stato non c'è mai stato, non c'è mai stato lo Stato perché l'hanno voluto 20.000 italiani capeggiati da Cavour, anche perché c'è stato un antistato che è la Chiesa che ha sempre impedito la Costituzione, il rafforzamento, il consolidamento di uno Stato. La Seconda Repubblica è morta ma nessuno la seppellisce? La Seconda Repubblica non è morta perché non è mai esistita ed è l'agonia, la fase terminale della prima. Cos'è il Quirinale? Una dimora storica, una ditta con tanti impiegati, un luogo di potere o il simbolo dell'unità nazionale? No, certamente non è il simbolo dell'unità nazionale, è uno dei, forse è un baraccone serio, nonostante tutto è un baraccone serio. Se fossi parlamentare chi avresti votato? Capo dello Stato? Se fossi parlamentare avrei votato Capo dello Stato, ma forse avrei votato Marini, forse Capo dello Stato. Il migliore e il peggiore dei nostri Presidenti della Repubblica? Il peggiore è stato sicuramente Gronchi, il migliore è stato sicuramente Einaudi e ha fatto molto bene anche Napolitano. Il potere è? Il potere è l'arte di maneggiare l'etame senza sporcarsi troppo le mani. E il potere logora di più chi ce l'ha o chi non ce l'ha? No, il potere logora di più chi lo perde. Chi sono i poteri forti? E chi sono? Sono degli ignomi sconosciuti che menano la grande quadriglia internazionale. Ma quelli della finanza sono? Cioè la finanza, la Trilader, la Bilderberg, la Goldman Sachs, la Moody's di cui il maggiore azionista è Buffett, ma a parte Buffett e Soros, gli altri non si conoscono. Secondo De Gaulle, chi comanda deve essere conciso e preciso. E' per questo che in Italia non comanda nessuno? No, è conciso, preciso e deciso. In Italia non c'è né precisione perché è un paese pressapoghista, non c'è né concisione perché è un paese che si parla addosso e non c'è decisione perché la grazia dirigente se la fa sotto. Sei d'accordo con Voltaire quando dice che il potere è bello se se ne abusa? Il potere è bello se se ne abusa, e io lo dico sempre, questo è come un paradosso, ma in fondo chi ha il potere tende sempre ad abusarne. Il contrario di potere è impotenza? Beh, però non dimentichiamo che agli uomini di potere le donne perdonano anche l'impotenza. Applauso del Signore. Perché dici che il politico è come la donna frigida? Ma il politico è quello perché il politico non ha sentimenti, non ha passioni, ha soltanto interessi, interessi contingenti. In politica ci vuole più abilità a fare promesse credibili o a mantenerle? No, in politica non bisogna mai fare le promesse che gli altri non sono stati in grado di mantenere, ma se si fanno promesse bisogna mantenerle o fare, dimenticare di averle fatte. La più perniciosa delle casse, sono due le più perniciose delle casse, anzi tre, sono quella politica, quella giornalistica e quella sindacale. Tra Bersani e Renzi chi scegli? No, da Bersani e Renzi scelgo ancora Bersani, perché Renzi, nonostante Bersani sia un paesano di Betto, l'abbonato a frate Indovino che parla per proverbi, ma Renzi è un vecchio giovane, vecchio democristiano, come sai è stato presidente dei giovani democristiani della Toscana, il quale recita una parte in cui vorrebbe credere, ma che non è la sua parte. Tra Veltroni e D'Alema? No, D'Alema, io preferisco sempre il cattivista, il buonista. A Berlusconi che voto dai? Come capacità di fare la campagna elettorale, di prendere i voti e come capacità di governare? Berlusconi è un grande leader, è un grande leader imprenditoriale, che è diventato un grande leader politico, usando in politica gli stessi criteri aziendali. Ma allora fai l'imprenditore e non fai il politico. Chiamo ancora un popolo di santi poeti navigatori? Noi siamo il popolo di Arlecchino, di Pulcinella, di Balanzone, di Maramaldo, di Caglioso, di Fregoli, di Pinocchio, di Schettino, di Laminetti, questo è l'Italia. Quindi Guicciardini batte Machiavelli 2 a 0? L'Italia è guicciardiniana, ognuno fa i propri comodi, i propri comodacci, fottendosi del bene collettivo, non interessa nessuno. Berlusconi che fine faremo? No, faremo la fine che abbiamo sempre fatto, diventeremo una colonia, una colonia non più politica, militare, territoriale, delle grandi potenze, diventeremo una colonia economica, finanziaria, monetaria, confermando la nostra ancestrale vocazione al servaggio.